Il masochismo fondamentale, effetto della castrazione, quello che mi costringe a darmi dei limiti, quello che mi costringe appunto a contenere la spinta pulsionale è quello che ci permette di vivere in un contesto umano, in un contesto civile. Se non rinunciamo a qualche cosa del nostro godimento, se non teniamo conto del nostro simile, non possiamo evidentemente vivere una dimensione di civiltà.